Un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, un anno di sangue, bombe, sofferenze, ma anche solidarietà, con le famiglie lecchisi che hanno aperto la porta alle persone in fuga dal conflitto. Sono 952 gli ucraini in questo momento presenti nelle chiese, 1479 il picco nei primi mesi dopo lo scoppio del conflitto, soprattutto donne e bambini che hanno trovato rifugio nel nostro territorio non solo grazie alla rete coordinata dalla prefettura. 250 infatti sono accolti da 90 famiglie. A loro il sostegno della fondazione comunitaria lecchese grazie al fondo Lecco Ospital Ucraina. Il fondo Lecco Ospital Ucraina che è stato promosso dalla fondazione comunitaria lecchese, dai comuni del territorio lecchese, tutti i comuni con il distretto e gli ambiti territoriali di Lecco, Bellano e Merate, da Coff Cooperative dell'Adda e dal centro servizi volontariato ha raccolto in questo anno di lavoro oltre 300 mila euro, 316 mila euro per l'esattezza che sono stati utilizzati per sostenere l'accoglienza presso il nostro territorio, in particolare l'accoglienza delle tante famiglie lecchese di tutta la provincia che si sono rese disponibili sin dal primo giorno ad ospitare presso casi propri o seconde case profughi di guerra ucraini. La questione è che queste presenze, ovviamente visto i protassi della guerra, stanno continuando a tenere impegnate le famiglie che con tanta generosità non sono venute meno al loro impegno. Ad oggi abbiamo 90 famiglie lecchesi che ospitano ancora presso le proprie strutture oltre 250 profughi. È chiaro che per queste famiglie c'è un problema importante di sostenibilità economica, abbiamo tutti evidente e ben presente l'incremento delle bollette dei costi della vita in generale, c'è anche un tema di non essere lasciate sole. Per questo motivo il fondo Leco Hospital Ucraina è intervenuto economicamente a sostenere per quanto possibile questa esperienza delle famiglie e nel mese di marzo organizzeremo anche una giornata di incontro e di ringraziamento per il lavoro prezioso che stanno facendo e stiamo cercando di trovare nuove risorse per continuare a dare un aiuto economico. Ricordiamo che la raccolta fondi della fondazione comunitaria lecchese naturalmente prosegue. Noi siamo ancora aperti, proprio l'altro giorno un cittadino ha fatto un'erogazione di 9.000 euro, ci ha fatto molto piacere in primo luogo perché è un'erogazione importante, una donazione importante, ma in secondo luogo abbiamo estremamente apprezzato la discrezione, non ha voluto che si comunicasse il nome, ha voluto agire molto sotto traccia, ma è segno di una sensibilità che è ancora molto viva nel nostro territorio.